Quello che è successo l'avete visto? Io quando vi dico che è Sanculino è importante, voi non ci credete, bisogna crederci, perché hanno fatto tutti i rimporta, hanno fatto due golle, dai, ce sta no? Abbiamo perso una grande dignità, abbiamo detto no, siete d'accordo? Abbiamo fatto una grande partita, poi il calcio è così, oggi il Benevento ha segnato il portiere, questo è il calcio, comincio a capire che è episodico e poi c'è pure un po' di fortuna. Oggi noi ci è mancato quel pizzico di fortuna che non abbiamo avuto e stavamo presa un der, 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 eh? Però fa male il Presidente. Eh, sono rimasto un po' male, sì, perché io pensavo che alla fine uno a uno non faceva male a nessuno, cioè c'è stava, invece siamo stati come direbbe un Presidente serio, beffati dalla fortuna, eh? Presidente, oggi aveva la sciarpina del suo figlio Rocco? No, non c'è, eccola, capito, vedi, vedi? Mi potevi telefonare, se mi chiamai mi la mettevo, vedi? C'era qualcosa che mancava, bravo, non c'avevo, ho messo sto fregno, mi volevo pure, porta sfiga, guarda, voglio, perché è un regalo, eh? Guarda cosa onzo, ho caricato a la gravatta. Mai, mai, mai è guai smettere di sognare, però bisogna sempre esserci, combattere e azione, reazione, ricordate, azione, reazione. Questo è importante, domenica è una settimana e si vedrà, no, è come la canzone. vi sta bene? vorrete fare domande? mi vedo un po' tristi più di me che cavolo fate?